Mi sento sereno perché so che il mio impegno del tenere unita la coalizione era affiancato dall'impegno degli altri segretari, degli assessori, dei consiglieri. Ci sono tante cose che sono positive e che mi hanno dato grande soddisfazione. Sicuramente tra queste ci sono i progetti della Filanda perché dopo più di vent'anni dovremo consegnare alla città uno spazio importante, civico, nel cuore del centro storico dove anziani, famiglie, bambini e tanti altri cittadini potranno fruire di questi nuovi spazi. Il nuovo centro natatorio e la riconificazione del centro sportivo, ma dico anche l'impegno legato all'ambiente, la ciclabilità, il nuovo PCT ovviamente, con il risparmio di territorio, i vincoli sul verde, oltre che il regolamento edilizio che consente alla nostra città di costruire classi energetiche elevate, di qualità. Sono tante le cose belle che credo abbiamo realizzate e che consegniamo per frutto del lavoro di questi cinque anni. Tenendo conto dei forti limiti che la crisi in atto e le finanziarie che sono state fatte forranno alle finanze del comune non si possono pensare di immaginare, di fare grandi cose, però certamente ci sono alcuni progetti che devono essere completati e prima o fra tutto la nuova scuola, i temi dell'ambiente e della sostenibilità ambientale e i progetti legati alla famiglia e ai bambini. I bambini ne sono nati davvero tanti nella nostra città in questi anni, sono certamente il futuro di Cernusco e quindi ci sono progetti, ci sono idee che riguarderanno espressamente questo target delle giovani coppie, delle giovani famiglie e dei bambini.